Un altro anziano cilentano è rimasto vittima della sua passione per la campagna. Giovedì pomeriggio Giuseppe Guzzo, di 85 anni, ha perso la vita schiacciato dal trattore. La tragedia si è consumata poco dopo le 18, mentre l'anziano pensionato stava facendo rientro a casa dopo aver trascorso diverse ore nel terreno di proprietà di Rofrano, a confine con Alfano, dove viveva. Pare che l'uomo si fosse recato in campagna con il mezzo agricolo perché la sua auto non funzionava perfettamente e pare che anche il trattore avesse qualche difetto. Come sempre, per raggiungere il podere ha usufruito di una scorciatoia, una strada interpoderale ben asfaltata che unisce due piccoli comuni interni. Durante il viaggio di ritorno qualcosa è andato storto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del capitano Emanuele Tamorri, il trattore è uscito fuori strada e si è ribaltato nella scarpata sottostante. Giuseppe, evidentemente, non ha avuto i riflessi pronti per evitare di finire schiacciato sotto il mezzo agricolo. Ad accorgersi dell'accaduto è stato un ragazzo del posto che stava facendo rientro in paese con la sua auto. Immediatamente ha lanciato l'allarme e sul posto sono giunti i soccorsi. Per estrarre il corpo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul luogo della tragedia è arrivata anche un'aliambulanza partita da Ponte Cagnano. Ha sorvolato la zona per diverso tempo in attesa di capire da terra se ci fossero le condizioni per salvare l'anziana vittima. Purtroppo l'uomo è morto su colpo. I carabinieri, dopo aver accertato che non vi erano responsabilità da parte di terzi, hanno restituito la salma ai familiari. Giuseppe Guzzo era vedovo da alcuni anni, aveva tre figli e viveva da solo perché, nonostante l'età, era molto autonomo. Dopo aver vissuto a Torino, dove era emigrato per lavorare in fabbrica, aveva fatto rientro nel paese d'origine. Come la maggior parte degli anziani cilentani, l'Arzillo, 85enne, aveva trovato la serenità nella cura della campagna. E purtroppo anche lui, come molti altri pensionati avanti con l'età, se n'è andato solo perché non è riuscito a rinunciare alla sua passione per la terra.